Ok, provocati, allungati, mi raccomando. Ok, cerchiamo di tenere le armi e il radicamento a terra. Ok, quindi entrambi lui nella difesa e io dal mio attacco in avanti, spostiamo il peso a sinistra, io vedo, mentre lui attacca e immediatamente entro a chiudere la misura. Allora, questa è ancora più difficile della prima, perché i tempi sono tutti molto ristretti e la distanza è molto ristretta, quindi non c'è un giro proprio mai, ma la distanza è molto corta. 1, 2, 3, 4. Vedete che anche qui non vado indietro a scivolare, rimango avanti sul mio attacco. Ok. Ok. Posso, o meno, fare la tecnica di deviazione. Ok. Ho sentito anche non deviare, perché ovviamente è una tecnica di spazio. Ok. 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 Sosteiza Chiri Tsumai Ok Siamo? Prego Ok Siamo? Sì Siamo? 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 Grazie. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grazie.